la seconda corsa al cirigliano di Aversa vede al via soggetti di quattro anni il premio Vitelli affidati ai gentleman proprietari sta prendendo velocità il mezzo meccanico al retrato Brezzi CL che parte in seconda battuta davanti c'è andata facile facile Bay Bay l'avanzata in terza ruota di Brezzi CL squalificato il 6 Big John LF Brezzi CL va su Brexit Parra e su Bay Bay e passa agevolmente dopo quattrocento metri in trentuno muove dalle retrovie Brilliant Jet che va in scia Brexit Parra il leader completa i 600 in 46 e mezzo dopo il 6 squalificato anche il 9 Bartali Dorio la mossa a centropista di Brilliant Jet che cerca l'aggancio a Brezzi CL frustino davanti per Filippo Esposito Brilliant Jet deve accodarsi in seconda posizione così al completamento del chilometro che il leader può percorrere in 1'17 e mezzo ritorna a largo Brilliant Jet non vuole far rifiatare Brezzi CL che però la sta respingendo anche agevolmente 14 secchi di fronte Brezzi CL allunga e prende margine a Brilliant Jet ingresso in retta d'arrivo Brezzi CL un po' caratteriale tende a rallentarsi ma Filippo Esposito lo ha gestito nel miglior modo possibile e va a concludere nei confronti di una valida comunque valida Brilliant Jet che precede Beatrice Cris che conferma la buona impressione dell'altro giorno seppur quest'oggi abbia corso solo 200-300 metri però la bella prestazione dell'altro giorno è sicuramente confermata quindi arrivo probabile ed ufficioso 4-8-7 la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1-15-4 e c'è un eloquente 59 secchi per il giro finale per Brezzi CL e Filippo Esposito da Ideale Luis e Pieve CL i colori della famiglia Esposito Giuseppe Citarella Outrading